Buongiorno Davido, allora non ho molte cose da dire in introduzione, anzi ho tante cose da dire dopo, quindi magari facciamo la corta e andiamo diretti, però aspetta una cosa soltanto, ho visto passare questa news quindi ve la butto lì, AMD è l'ultimo dei produttori che vedo che si sono lanciati nel business dei chip RISC-V, quindi AMD sta producendo una CPU basata sull'architettura RISC-V. Perché ve la dico? Perché io ho un po', e questo ve lo dovete riconoscere, che do informazioni che girano attorno a questa architettura, questa open architecture, questa architettura aperta, open source, che si chiama RISC-V appunto e che è l'alternativa a l'architettura ARM e l'architettura naturalmente X86 e quindi quando vedrete appunto l'insorgere di architetture RISC-V dappertutto, perché ci sono altri produttori che stanno producendo CPU e chip basati su RISC-V, c'è Qualcomm per esempio, c'è Intel, c'è Google che stanno investendo, c'è un progetto della CNCF, no, scusate, della Linux Foundation su RISC-V, si chiama RISC-V, mi sembra qualcosa del genere. Insomma, quando inizierete a vedere device basati su RISC-V, potrete dire, io l'avevo già sentita questa, lo sapevo, me l'aveva detto Edo in un buongiornissimo. Vabbè, questo era soltanto per lodarmi, in realtà è ovvio che ne stanno parlando un po' tutti, però magari l'avete sentito prima qui, eh? Mi raccomando, vabbè, partiamo con le news di oggi. Allora, oggi ho un po' di aggiornamenti su dei fatti, su delle notizie che stiamo seguendo da un po'. La prima riguarda Okta, quindi proprio una cosa freschissima, ne ho parlato due puntate fa del Data Breach in Okta. Ho due aggiornamenti su Okta, il primo apparentemente è totalmente scollegato da questo, però insomma riguarda sempre la stessa azienda. Non rifaccio l'introduzione su che cos'è, chi è Okta, perché appunto recuperatevi due puntate fa la puntata sul Data Breach in Okta, ho parlato di che cos'è Okta. Ebbene, ho questo primo annuncio, cioè che Okta ha appunto dichiarato di essere stata colpita da un attacco che ha esposto i dati personali di suoi dipendenti. Questo attacco non è stato rivolto direttamente a Okta, ma a un vendor di terze parti, un fornitore, ecco, di Okta, che si chiama Rightway Healthcare, che appunto è quello che dà l'assicurazione, insomma l'healthcare, insomma l'assicurazione sanitaria, prodotti per il benessere, insomma il welfare, ai dipendenti di Okta. Ebbene, questo fornitore è stato colpito da un attacco, apparentemente insomma un attacco in una network breach, e insomma questi criminali, questi cybercriminali, hanno potuto accedere a file contenenti informazioni personali e anche insomma benefit plans di un sacco di dipendenti di Okta. Le informazioni contenute in questi dati, in questi file, carpiti dai criminali, sono il nome completo, il social security number, che sapete è il numero identificativo che esiste negli Stati Uniti, e poi il numero dell'assicurazione medica, l'assicurazione sanitaria. E questo breach è stato comunicato a Okta il 12 ottobre, che è proprio quando Rightway ha annunciato di aver subito questo attacco, e poi c'è stata un'investigazione che ha portato a scoprire Okta che il totale degli impiegati colpiti è stato di 4.961. Per il momento Okta non ha evidenza che queste informazioni personali siano state usate in qualche modo, per commettere qualche altro reato, insomma, e che le informazioni personali di dipendenti sono risalenti a un periodo che va dall'aprile 2019 a tutto il 2020. Naturalmente poi Okta ha anche precisato che questo attacco, queste informazioni cedute nel vendolo di terza parte, non sono dovute a servizi di Okta, all'uso di servizi di Okta. Cioè in pratica hanno attaccato questo fornitore, questo fornitore incidentalmente aveva dati di Okta, i dati di Okta sono stati compromessi, ma non c'entra niente Okta apparentemente come servizio. Però naturalmente tutto questo si inserisce nel contesto dei breach subiti da Okta, in particolare quello di cui avevamo parlato appunto due puntate fa, che riguardava il furto di service account, che poi hanno compromesso alcuni clienti di Okta, tra cui tre in particolare. Ebbene, il 3 novembre, lo stesso David Bradbury, che è Chief Security Officer in Okta, che aveva scritto il disclosure del breach precedente, ha pubblicato questa sorta di post-mortem, in cui ha spiegato che cosa è successo, perché c'è stato questo breach, a che cosa è dovuto e quali sono le azioni che Okta sta intraprendendo per rimediare. Allora, vi leggo un po' degli stati del comunicato e poi vi leggo un commento a questo comunicato, che invece è stato fatto da Ars Tecnica, che secondo me è interessante. Allora, inizia con... offriamo le nostre scuse a tutti i clienti che sono stati compromessi da questo attacco. Il 19 ottobre Okta ha avvisato i clienti di un security incident. Dopo aver concluso la nostra investigazione, possiamo confermare che dal 28 settembre 2023 a 17 ottobre 2023, un attaccante ha ottenuto accesso non autorizzato a file dell'Octa Customer Support System, che erano associati con 134 clienti Okta e aggiunge meno dell'1% del totale dei clienti Okta. Ma questo naturalmente è poco importante, data anche la grandezza dei clienti tra questi 184. Ricordo che ne conosciamo soltanto tre al momento tra questi. Continua questo comunicato. Alcuni di questi file erano dei file HR, noi sappiamo, sono gli HTTP Archive, quelle che contenevano, come poi dice il comunicato, contenevano session token che possono essere stati usati per degli attacchi di session hijacking, quindi per compromettere proprio le sessioni di autenticazione. Quindi l'attaccante è stato in grado di usare questi session token per attaccare e compromettere a sua volta le sessioni Okta di 5 clienti, 3 dei quali hanno poi comunicato le loro risposte all'evento. Quindi da questo comunicato sappiamo che sono 5 i clienti compromessi, almeno quelli che attualmente Okta sta comunicando che sono 5, quelli tra i 134, che sono stati sicuramente compromessi. Conosciamo soltanto tre nomi tra questi 5. Al momento non si sa ancora chi sono gli altri due. Comunque proseguiamo. L'accesso non autorizzato al Customer Support System di Okta ha appunto avuto origine da un service account che era memorizzato nello stesso sistema. A questo service account era stato dato il permesso di vedere e aggiornare i support cases dei clienti. Durante la nostra investigazione Okta, l'Okta Security, ha identificato che il problema, quindi qua vediamo alla causa di questo incidente, il problema è che un dipendente aveva fatto login nel proprio Google account personale sul Chrome browser del laptop in cui stava lavorando con Okta. Quindi sul laptop di lavoro aveva fatto login su Chrome con il proprio account personale. A quel punto username e password del service account sono stati salvati nell'account Google personale di questo dipendente. E a quel punto probabilmente riuscendo ad impossessarsi, a entrare nel Google personal account di questo dipendente, l'attaccante è riuscito ad accedere anche a queste informazioni di Okta salvate dall'account personale. E tra l'altro poi leggendo la timeline di tutti questi fatti si ricapitolano quali sono i tre nomi tirati in ballo, ecco i tre nomi che hanno fatto disclosure degli incidenti, che sono appunto Beyond Trust per primo, One Password e poi Cloud Flare. Ancora, ripeto, non sappiamo gli altri due. Poi ci sono una serie di task, di rimedi, insomma, di remediation task, quindi quello che Okta ha fatto per rimediare a questo incidente adesso e nel futuro. Però prima di leggerli, vediamo un po' il commento di Ars Tecnica a questo comunicato, perché è interessante. E dice, mentre questo post mortem enfatizza le trasgressioni, quindi le violazioni, insomma, di un dipendente che si è loggato con il suo account personale su un device di lavoro, il grosso fattore che ha contribuito a questo breach era qualcosa, è qualcosa che la compagnia ha sottostimato e soprattutto ha sottocomunicato, cioè di cui ha dato poca importanza nel comunicato, cioè un service account configurato male. E poi l'articolo è più complesso, però vi leggo alcuni estratti, perché secondo me sono interessanti. Quindi, quando il dipendente si è loggato sull'account Okta su Chrome, mentre era autenticato al suo account Google personale, le credenziali Okta sono state salvate su questo account personale, probabilmente attraverso il password manager di Chrome. Quindi, dopo aver compromesso questo personal account oppure il suo device, l'attaccante ha ottenuto le credenziali necessarie per accedere all'Okta account, quindi l'account enterprise. Accedere ad account personali in una compagnia come Okta è, per molto tempo è stato considerato, una no, un grosso no, una cosa da non fare. E se questa proibizione, questo forte no non era chiaro prima di oggi, adesso dovrebbe esserlo. L'impiegato quasi sicuramente ha violato la policy della compagnia e non sarebbe una sorpresa se questo alla fine venisse licenziato. Comunque sarebbe sbagliato per chiunque concludere che la condotta, diciamo, sbagliata dell'impiegato è stata la causa del breach, perché non è questo il caso. Invece la colpa è proprio nel security team di Okta che ha configurato il support system che è stato poi breachato. E in modo specifico, il modo in cui il service account di questo servizio è stato configurato. E poi c'è una spiegazione su che cos'è il service account. E ve la leggo. Un service account è un tipo di account che esiste in vari modi, insomma, su siti operativi e framework. A differenza degli standard, degli user account, insomma, dei normali user account, che sono account che sono acceduti da esseri umani, i service account sono per lo più riservati all'automazione di funzioni machine to machine, quindi tipo server to server, come per esempio fare dei backup dei dati oppure fare degli antivirus scan tutte le notti, oppure in particolari momenti, insomma, ci sono anche altri aspetti, no, dei sistemi che usano service account per eseguire operazioni su magari un cloud o su servizi. Vabbè, quindi per questa ragione non può essere bloccato da autenticazione multifattore, come può eseguirsi, insomma, per gli utenti umani. E questo spiega perché non c'era la multifactor su questo account. Ma comunque il breach va a dimostrare varie colpe, insomma, che il security team di Okta ha nel non aver configurato bene questo account. E l'articolo prosegue elencando un po' di queste colpe, ecco, di questi problemi. E dice, primo, Okta avrebbe dovuto mettere degli access control oltre una semplice password per limitare chi o cosa può connettersi al service account. Un modo per fare questo è di mettere dei limiti o delle condizioni agli indirizzi IP che si possono connettere. Un altro è di ruotare regolarmente gli access token che sono usati per loggarsi, per autenticarsi ai service account. E, naturalmente, avrebbe dovuto rendere impossibile per i dipendenti loggarsi sui propri account personali su una macchina di lavoro. Insomma, queste e altre precauzioni sono queste le responsabili del breach. Insomma, è lì che Okta avrebbe dovuto porre la sua enfasi nel comunicato. E poi, da questo articolo, viene anche linkato un thread su Mastodon dove vari esperti di sicurezza vanno a mettere in evidenza questi problemi e altri, insomma. L'articolo di Art Tecnica poi prosegue con un'enfasi sull'approccio di sicurezza conosciuto come Zero Trust. Quindi devi assumere che la tua network sia già briciata e devi disegnarla, insomma, devi architettarla in modo che prevenga che le cose negative possano accadere da questo fatto, cioè del fatto che la network sia briciata. È una cosa che devi assumere, no? Assumi che la tua network sia già stata compromessa e a questo punto disegna l'accesso ai tuoi servizi in modo che anche se la network è compromessa questi servizi non possano essere briciati. E questo vuol dire poi usare dei meccanismi di difesa a livelli, insomma, layered, dice, in modo da evitare che ci sia un single point of failure come ad esempio la compromissione di una semplice password o un authentication token. E poi dice che Bradbury, appunto, l'autore del comunicato di Okta, dice che ci sono state delle attività sospette sulla network il 29 settembre, quando appunto OnePassword l'ha riportato, ha riportato la sua compromissione ad Okta. E poi, infine, che Okta non ha identificato la sorgente del breach fino al 16 ottobre. E questo tempo che è passato ha permesso all'attaccante di avere accesso ai service account, quindi più di due settimane. A quel punto torniamo a questi famosi remediation steps che Bradbury ha elencato alla fine del comunicato e questi, secondo il post di Art Tecnica, sono proprio quelli che mettono in evidenza queste falle di Okta che adesso sono state coperte, insomma, sono state migliorate, ma che sono la causa primaria del breach. Insomma, ve li leggo un po'. Il primo è disabilitare il service account su questo customer support system e va bene, ovviamente è stato compromesso e l'hanno disabilitato. Poi, il secondo step, bloccare l'uso di Google Personal Account su Google Chrome dei device aziendali. E infine, legare gli Okta Administrator Session Tokens, quindi i Session Tokens che permettono di avere accesso come amministratore al servizio di Okta, basati sulla network location. E questo anche, come diceva l'articolo, avrebbe impedito gli accessi così compromettenti. Insomma, alla fine il pezzo si conclude così, che Okta merita, insomma, un plauso per come ha fatto disclosure di questi eventi, come ha pubblicato l'intera timeline e anche i remediation step per rimediare a quello che è successo. Però, però, il fatto di avere così addossato la responsabilità dell'accaduto a un impiegato che probabilmente è stato vittima di un attacco, insomma, ha compiuto una leggerezza, ecco. Però sappiamo tutti che l'errore umano è inevitabile. Questo è anche alla base del principio Zero Trust, no? L'errore umano ci sarà, non è da incolpare qualcuno perché ha sbagliato, perché tutti sbagliano e sbaglieranno prima o poi. Quindi Okta avrebbe dovuto mettere più enfasi nei suoi comunicati sugli errori di configurazione della sicurezza del Customer Support System e non sull'errore di un singolo impiegato. Vabbè, questo era un po' la morale di questa favola che volevo riportarvi, che mi sembra la cosa interessante. Proseguiamo con l'aggiornamento di cose che abbiamo seguito un po'. Vi ricordate di Sam Bankman-Fried? Sì dai, ve lo ricordate? Il capo, il fondatore di FTX, che poi è stato travolto dalla banca rotta incredibile, poi è stato messo sotto processo. Beh, il processo c'è stato, si sta svolgendo a New York e in realtà nelle ultime settimane si sono susseguiti vari articoli su fasi di questo processo, anche piuttosto frizzanti, però non le ho riportate perché mi sembrava un po' folklore. aspettavo la sentenza e i commenti che ci sarebbero stati. E questi commenti sono arrivati addirittura su un giornale generalista, diciamo, cioè su qualcuno che non tratta verticalmente la tecnologia, che è il Post. Mi fa piacere andare proprio a prendere l'articolo del Post per riportare un po' le conclusioni del processo e vedere che cosa succederà adesso. Allora, dice l'articolo Sam Bankman-Fried è stato giudicato colpevole di sette capi di imputazione di frode, associazione delinquere per commettere frode e associazione delinquere per riciclare denaro. Il processo, iniziato un mese fa a New York, ha stabilito che l'inaspettata bancarotta della sua piattaforma di schermo di criptovalute FTX sia stata causata da una gestione illecita dei fondi da parte di Bankman-Fried. Ora Bankman-Fried rischia complessivamente fino a 110 anni di carcere. Poi, nota di colore, alcuni amici stretti di Bankman-Fried avevano testimoniato contro di lui, diversi si sono anche dichiarati colpevoli di reati minori. Bankman-Fried avrebbe usato i soldi che i clienti affidavano a FTX per vivere una vita lussuosa, acquistare proprietà da milioni di dollari alle Bahamas, finanziare lautamente sia il Partito Democratico sia quello repubblicano in vista delle elezioni del 2020 e del 2022 e per coprire un gigantesco buco nel bilancio di un fondo di investimento sempre di sua proprietà, Alameda Research. Qua tra l'altro ci sarebbero cose frizzantissime che guardano la sua ragazza che era stata da lui appuntata CEO di Alameda Research quando già sapeva che era un disastro. Ma va bene, se volete approfondire trovate delle dichiarazioni interessanti proprio durante il processo della sua ragazza. Comunque, proseguo. Qui c'è un piccolo riassunto dei fatti. Lo scorso novembre un'inchiesta giornalistica aveva rivelato che FTX non era finanziariamente solida come si riteneva e questo aveva provocato una crisi di fiducia nei confronti della piattaforma. Moltissimi clienti avevano cercato di ritirare miliardi e miliardi di dollari di investimenti e risparmi detenuti in criptovalute. Ma FTX non aveva più i soldi dei depositi perché Bankman-Fried li aveva usati appunto per finanziare campagne elettorali acquistare beni di lusso e sostenere l'attività di Alameda Research. In totale, al bilancio di FTX mancavano 8 miliardi di dollari a quel punto l'azienda ha dichiarato bancarotta. Bankman-Fried ha chiesto anche di poter testimoniare una mossa generalmente considerata rischiosa nei casi di frodi finanziaria. Durante la sua testimonianza l'imprenditore si è infatti dimostrato in difficoltà a giustificare una serie di dichiarazioni rilasciate in varie interviste fatte dopo la bancarotta di FTX. Ma la difesa aveva sostenuto la tesi secondo cui Bankman-Fried, molto occupato di i suoi vari ruoli, non si fosse accorto del fatto che i suoi collaboratori avessero fatto svanire i miliardi di dollari e che quindi le frodi fossero avvenute a sua insaputa, naturalmente. Bankman-Fried si è sempre dichiarato innocente ammettendo di non aver tenuto sotto controllo i conti in modo adeguato ma negando di aver volontariamente truffato i suoi clienti. Poi il post prosegue l'articolo vi consiglio di andare davvero a leggere insomma, questo era un po' un riassuntino della dichiarazione di colpevolezza insomma, della sentenza di colpevolezza in questo processo che comunque non è finito cioè ci sarà l'appello e quindi poi vedremo come andrà però intanto abbiamo un update a questa vicenda che rimane una delle più croccanti dell'ultimo anno. Ho un altro piccolo aggiornamento qui sono su The Register e parliamo del WEI il Web Environment Integrity API che è quell'API che Google ha infilato dentro Chrome e che ha sollevato un vespaio ebbene parto con l'apertura dell'articolo dopo un'infinità insomma di preoccupazioni e di obiezioni rivolte a Google Google ha deciso di smetterla di sviluppare questa tecnologia così controversa appunto la Web Environment Integrity o WEI c'è una spiegazione di che cos'è WEI WEI è una testazione insomma un certificato una certificazione che dà un modo ai web server di controllare l'autenticità ecco meglio l'autenticità dei browser che si connettono attraverso l'uso di token criptografici uno degli obiettivi è di permettere ai web server di valutare l'autenticità dei device che si connettono in modo che questi siano reali siano degli esseri umani insomma e rappresentino un software stack completo quindi un modo per verificare che ti stai connettendo con un sistema operativo e non che tu sia un crawler insomma un bot ecco quindi infatti poi dice l'articolo l'API avrebbe concesso ai siti web di insomma di essere sicuri che sono stati visitati da un utente in un essere umano con un browser normale invece di un bot che fa scraping insomma che si maschera da persona reale per fare questo il sistema deve fare un check attraverso questa attestazione che lo stack software e hardware dell'utente insomma rispetti determinati criteri e che quindi sia autentico e tutto bene in questa idea fino a che qualcuno usa questo accesso questo check dello stack per determinare che la configurazione software o hardware di un utente che si connette al tuo sito non va bene insomma per tagliarlo fuori perché qualcosa nel tuo sistema non va bene e questo naturalmente è un modo per limitare l'accesso a internet e questa roba qua è stata subito intravista da insomma dai reviewer di questa proposta di questo commit che è finito dentro Chromium e hanno subito che hanno subito commentato sotto il post di Google e nei forum di Google e poi anche pubblicamente insomma per dire che questo avrebbe creato una forma di DRM insomma di restrizione all'accesso ai contenuti del web avrebbe limitato insomma il libero accesso al web e adesso insomma Google ha annunciato che cioè abbiamo vi abbiamo ascoltato naturalmente abbiamo ascoltato le vostre preoccupazioni e il way non è da più non è più considerato insomma una tecnologia in sviluppo dal Chrome Team questo è stato pubblicato sul blog di Android e quindi tra l'altro il Chrome Team ha pubblicato un comment che ha fatto il revert di tutte queste modifiche che erano già state incluse in Chromium al post di questo sviluppo l'Android Team si concentrerà su Android WebView Media Integrity API che diciamo che fornisce un meccanismo molto simile di check di software e hardware ma soltanto relative alla WebView embeddate nelle app Android quindi sappiate che probabilmente le app Android che usano WebView avranno questo ulteriore accesso insomma all'attestazione di quello che sta sul vostro device sia software che hardware questo insomma per darvi un update di questa vicenda ci siamo forse liberati di WAI di Web Environment Integrity ma in qualche modo secondo me tornerà in altre forme mettiamola così allora infine puntata pienissima di roba però non volevo finirla senza parlare di Unione Europea perché ci sono un po' di cose diciamo controverse ecco che riguardano l'Unione Europea ne tratterò soltanto tre oggi ma ce ne sono di più magari le riprendo nei prossimi giorni per darvi un po' conto di quello che sta succedendo in ambito digitale insomma legato all'Unione Europea il primo la prima news che voglio toccare riguarda la cosiddetta chat control ovvero quella proposta che impedirebbe ai sistemi di chat come Whatsapp o Signal di criptare end to end i messaggi in modo che nessuno neanche un'autorità possa accedere per vederli quindi questo comprometterebbe il meccanismo di criptazione in modo che un'autorità possa leggere e controllare il contenuto delle chat di qualunque chat alla ricerca di materiale pedopornografico quindi naturalmente sempre per proteggere i bambini ebbene ci sono una serie di critiche ovviamente asprissime a questa proposta insomma e immaginate perché però volevo leggervi un'inchiesta di Wired pubblicata il 24 ottobre che riguarda appunto questo Danny Mekic che è un ricercatore olandese di Amsterdam stava studiando questa proposta di legge europea sul chat control appunto che è pensata per combattere il child sexual abuse e si è trovato di fronte una cosa piuttosto strana all'improvviso ha iniziato a vedere degli ad su twitter che rappresentavano delle giovani ragazze e degli uomini dall'aspetto sinistro contro uno sfondo nero e una musica di sottofondo inquietante questa pubblicità che poi rivelava delle statistiche su un sondaggio a proposito appunto della pedopornografia online e la privacy online era stata commissionata dalla commissione europea questo sondaggio quindi i risultati di questo sondaggio evidenziavano come suggeriva il video che la maggior parte dei cittadini dell'unione europea supporterebbero lo scan quindi l'accesso totale alle loro comunicazioni digitali questo ricercatore poi quindi ha scoperto che questi risultati insomma del sondaggio erano fortemente influenzati erano biased perché questi risultati sono stati ottenuti ingannando i partecipanti al sondaggio poi ci sono dei link per approfondire ecco se volete saperne di più su come sia andata la conclusione che i cittadini dell'unione europea sono ok con una sorveglianza maggiore non può essere tratta dal dal sondaggio e tra l'altro questi stessi risultati cozzano con quelli di sondaggi indipendenti prosegue l'articolo questa campagna ha targhettizzato insomma i riceventi di questi ad su base di credi religiosi e di orientamenti politici che sono tutti considerati informazioni sensibili sotto proprio le leggi di protezione dell'unione europea e tra l'altro sembrano violare il terms of service dello stesso Twitter ma chi ci ha scoperto che questi ad erano pensati per essere visi soltanto da target selezionati come per esempio politici di alto rango e di essere nascosti da persone cioè a persone interessati a Julian Assange Brexit la corruzione in un'europea e politici euroscettici come Marine Le Pen Nigel Farage Viktor Orban Giorgia Meloni naturalmente poi anche il partito populista di destra AfD il partito tedesco e dagli anticristiani poi Mekic ha scoperto che questi ad che hanno ottenuto più di 4 milioni di view erano mostrati soltanto in 7 paesi dell'Unione Europea che sono Olanda Svezia Belgio Finlandia Slovenia Portogallo e Repubblica Ceca all'inizio Mekic non aveva capito perché fossero solo questi paesi destinatari della pubblicità e poi ha scoperto che questa campagna è stata lanciata un giorno dopo che il consiglio dell'Unione Europea si era riunito appunto per trovare del supporto a questa proposta di legge della chat control e quelli che siano opposti a questa proposta erano proprio i paesi oggetto di questa campagna di advertising e poi c'è un riassunto appunto della proposta di legge questa legge insomma è una proposta conosciuta come chat control oppure CSA regulation quindi C-S-A-R-X-R non so come pronunciarla che obbligherebbe le piattaforme digitali a riportare qualunque traccia di child sexual abuse quindi pedacornografia nei propri sistemi e nelle chat private degli utenti e quindi si rivolge a piattaforme come Signal Whatsapp e altre di messaggistica gli attivisti dei diritti digitali e anche alcuni legislatori sulla privacy e governi nazionali sono fortemente oppositori di questa proposta che il Data Protection Supervisor dell'Unione Europea e DPS che si chiama Wojciech Wiewierowski l'avrò pronunciato bene non lo so ha appunto ha detto che questa roba qua sarebbe come attraversare rappresenta una sorta di attraversamento del rubicone in termini di sorveglianza di massa dei cittadini dell'Unione Europea insomma le scoperte di questo ricercatore olandese aggiungono ulteriori pepe a questa controversia contro la Commissione Europea che di recente tra l'altro ha subito degli altri colpi come la scoperta che certe compagnie di intelligenza artificiale stanno sostenendo questa proposta con un finanziamento economico piuttosto consistente e hanno anche un certo livello di influenza nel come questa proposta viene costruita e sono tutte accuse che il commissario Ilva Johansson ha totalmente opposto ecco dicendo che non ha fatto non c'è nulla di quello che gli viene accusato non hanno fatto niente di male ma non ha poi risposto a ulteriori domande da parte di Wired e peraltro prosegue l'articolo mentre questa pressione contro questa proposta sta crescendo la Johansson si è scagliata contro l'associazione non profit per i diritti civili European Digital Rights che è uno degli oppositori più forti a questa legislazione e è un difensore un protettore della crittografia end to end e la Johansson appunto si è riferita a dei finanziamenti da Apple suggerendo che la EDRI quindi European Digital Rights stava diciamo facendo propri sostenendo i punti proprio di Apple e proprio su un blog post della Commissione Europea il 13 ottobre la Johansson aveva scritto che Apple è stata accusata di spostare chiave di equitazione in Cina un comportamento che potrebbe mettere a rischio i dati degli utenti però nessuno si è fatto domande su questo strano comportamento e sul fatto che Apple appunto stia supportando quello che dice anche la European Digital Rights che onestamente mi sembra il più classico degli Stroman Arguments proprio spostiamo un'attenzione altrove no? vabbè l'articolo prosegue con altre informazioni comunque sappiate che al momento il voto è sospeso è stato rimandato vedremo come proseguirà speriamo che non si concretizzi perché è una proposta abbastanza inquietante se leggete un po' nei dettagli di cosa si tratta però seguiremo ma ho due ulteriori cosette prima di chiudere sull'Unione Europea la prima la beccota DigWatch ed è il ban al behavioral advertising quindi l'impedimento ora totale per meta di utilizzare su Facebook e Instagram i dati del comportamento online degli utenti per fare advertising personalizzato questo insomma dice l'articolo è un'espansione di una legge già presente in Norvegia che ora si andrà ad applicare a tutti i 30 paesi dell'Unione Europea e dell'area economica europea e naturalmente questo è stato opposto fortemente da meta la quale però ha già comunicato e qua vado su un articolo invece di The Register che la approfondisce ha già comunicato che in risposta a questa nuova legge ora offre un piano a pagamento per i cittadini dell'Unione Europea appunto che permetterà di accedere a Facebook e Instagram completamente levando l'ad quindi senza ad quindi se volete pagare potete pagare 9.99 euro al mese per non avere la pubblicità oppure 12.99 euro al mese su iOS e Android e questo naturalmente è fatto secondo meta per il pezzo per lo share che si beccano Apple e Google dagli acquisti fatti sui relativi store ma comunque dovunque la compriate questa subscription sarà valida su tutti i device quindi se proprio volete farlo conviene acquistarlo su web per risparmiare qualche euro e insomma questo è in risposta quindi al ban del behavioral advertising meta da un prezzo da un prezzo ai dati dell'utente ogni mese e questo prezzo è di 9.99 euro chiudo davvero adesso prometto cambio argomento ma rimango sempre in ambito commissione europea per darvi conto di un accordo tra la commissione europea e Oracle per l'utilizzo di servizi in cloud sono sempre su The Register e c'è questo articolo che parla appunto di come Oracle ha firmato un accordo con la commissione europea per dare la propria infrastruttura cloud per Oracle Cloud Infrastructure o OCI a varie amministrazioni europee la commissione ha selezionato Oracle e quindi OCI dopo una procedura competitiva e l'azienda non ha fatto disclosure dei dati economici di questo accordo ma The Register ha diciamo carpito che il valore dovrebbe essere intorno a 15.75 milioni di euro è un accordo di 6 anni che renderà disponibile OCI a dozzine di istituzioni insomma dell'unione europea e il contratto farà accedere queste istituzioni a più di 100 servizi di Oracle Cloud ecco questo è stato anche comunicato da Oracle stesso poi aggiungo che l'unione europea opera una strategia multicloud e continua a lavorare adottando l'European Cyber Security Certification Scheme for Cloud Services che è insomma mega mega dicitura e concludo perché è una nota comunque interessante nel 2020 AWS ha firmato un accordo con la commissione europea per 54 milioni di euro l'acquisizione di servizi cloud nel campo della infrastructure as a service multi-talent e del platform as a service era pensata per durare 4 anni secondo una nota e il valore totale del framework cloud secondo cloud 2 nel quale AWS era stata selezionata era messa a 417.7 milioni di euro si dice anche che l'unione europea usa servizi anche da OVH cloud la chiudo qua scusate è puntata veramente lunga pregna di robe volevo metterci un sacco di cose dentro spero che alla fine abbia fatto una buona scelta non lo so fatemelo sapere insomma se qualcosa non vi torna e noi ci vediamo a un prossimo episodio magari un pochino più eh un pochino più leggero e con meno roba dentro di questo grazie comunque di avermi seguito ciao ciao Grazie a tutti.